Invece abbiamo fatto benissimo fare così, ci costerà un po' di sacrificio, ma stiamo insieme e questo è quello che conta. E poi quando abbiamo finito di pagare le rate di tutti questi mobili, incomincieremo a pensare alla casa. Il viaggio di nozze lo facciamo quando prendiamo le ferie, il viaggio di nozze in ritardo è sempre stata una roba fine e sale. Poi ci sono le domeniche e la domenica… Aspetta un momento. Che meraviglia!